Gesù, condannando lo scandalo, vuol difendere la vita del piccolo, cioè del debole, nella fede, il quale facilmente potrebbe essere influenzato negativamente. Il Vancello dice, chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino e fosse gettata negli abissi del mare. Un'espressione molto concreta e molto viva, pensando che una macina che si tira giù in fondo al mare non ritorna mai a gallo, cioè è un'espressione che non c'è salvezza per questo tipo di peccato. Con lo scandalo si esercita una pressione psicologica che può far perdere i valori etici e religiosi. Grande è la responsabilità e la colpa dei genitori e degli educatori in quanto formatori di conscienze. Essi possono formare dei santi o degli assassini. Si comprende bene quindi di che gravità sono la responsabilità e la colpa dei genitori e degli educatori e di tutti quelli che con un cattivo esempio trascinano al peccato gli altri. Dal padre ladro il figlio ladro, dal padre bestemmiatore il figlio bestemmiatore. I romani dicevano talis pater talis figlius. Noi potremmo dire figli d'arte. Lo scandalo costituisce una colpa grave se chi lo provoca con azioni o omissioni intuce deliberatamente altri in una grave mancanza. Lo scandalo è grave quanto a provocarlo sono coloro che per natura o per funzione sono tenuti ad insegnare e a educare gli altri. Gesù lo rimprovera agli scrivi e ai farisei. Li paragona a lupi rapaci in veste di pecore. Lo scandalo è chiaro. Può essere provocato anche dalle istituzioni, dall'opinione pubblica, dalla moda. analogamente avviene per i capi di imprese i quali addanno regolamenti che intucono alla frode, per i maestri che esasperano i loro allievi e per coloro che, manipolando l'opinione pubblica, la sviono dai valori morali. Alcune realtà moderne offendono la vita e la salute fisica, bene prezioso e donate da Dio, la droga, lo stress, lo sport ed altre attività che solo apparentemente danno sollievo e gratitudine. Spetta alla pubblica autorità non solo impedire, ma lo spaccio della droga, ma insieme ad altre associazioni come quelle religiose, sensibilizzare le famiglie e dare una corretta formazione del carattere ai propri figli. Vittime di tale flagello sono principalmente i giovani, i più deboli e i più immaturi, anche perché l'educazione che oggi loro viene impartita è a base di zucchero e cammella e si fonda sui valori del consumismo, avere tutto e subito. Si hanno così caratteri deboli, egoisti, accentratore e intocili al richiamo. Un altro elemento dell'offesa alla vita è lo stress, il lavoro a tutti i costi, sopra ogni cosa e non c'è più il tempo della vita del paese, della comunità che si riprosa, che prende parte alle giornate di festa e le famiglie di uscire di casa e fare un po' di passeggiate, andare a comprare un gelato, ma uscire da un'attenzione di stress. L'abuso anche dello sport, che di per sé è meraviglioso, è bellissimo, è utile, ma quando si diventa schiave dello sport, anche questo diventa un abuso che porta difficoltà allo sviluppo della famiglia. La notizia dei morti violenti ieri erano dettate dalle guerre e dall'epidemia, oggi vengono dagli incidenti stradali. Accenniamo ad alcune cause, il cattivo stato della macchina, della viabilità, della segnaletica, della stanchezza, la sonnolenza e principalmente l'alcol. Sono varie cause che possono creare sgomento alla vita comune del cristiano.